Ah! D'accordo! D'accordo. Non c'è bisogno di malmenarmi oltre. Andrò di buon grado. Riferirò ciò che vedo. Già, fallo. Buona fortuna. Oh, meraviglioso. Oh, meraviglioso. Oh, meraviglioso. Isola di Faden. Come prego? Portami. Me mangia carne. Oddio. Me mangia carne. Certamente. Ma prima, tu e io dobbiamo raggiungere un accordo. Tanto per cominciare, io qui sono l'unico in grado di tenere la nave con la chiglia dritta. me devi tenere intatto, non consumato. Hai capito? bene. Dunque, c'è ancora una cosa in tuo possesso. che mi è necessaria.